pazzesco pazzesco quello che sta succedendo in queste ore di calcio mercato perché ragazzi davido che re che non è più negli schemi già da una scorsa stagione del tecnico del bruce e su di lui ragazzi c'è una squadra di serie a una squadra neopromossa ed è lacrimonese pazzesco 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 davido che re che classe 97 dopo una grande stagione personale al venezia di entrato al bruce il bruce ha vinto 3 a 2 contro il gank in rimonta ma davido che non ha strusciato il campo e quindi forse gli ultimi 10 minuti mi ricordo e quindi ragazzi cremonese bruce si sono incontrati si stanno facendo stanno costruendo questa trattativa che sarebbe prestito c'è da dire c'è da capire se prestito secco o prestito con diritto di riscatto la trattativa è ben avviata siamo qua c'è ottimismo filtro ottimismo per il ritorno di davido che re che è uno di questi senza parole senza parole che calcio mercato in serie a che calcio mercato in serie a nelle parti basse è infatti piontech o va alla salernitana o c'era la suggestione anche cremonese pazzesco e poi negli ultimi giorni è uscito fuori borussia dormut vedremo vedremo scisto dove andrà tra l'altro pinamonti sembra molto vicino alla salernitana pazzesco pazzesco dopo bistrovic dopo il video di bistrovic alle lecce arriva il video molto probabilmente sarà davido che re che cremonese pazzesco 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 non ho più parole per descrivere questo calcio mercato in serie a perché ce ne sono di nuovo ogni giorno pazzesco pazzesco lasciato un like fatemi sapere la vostra questo tecometri ovviamente davido che re che lo conoscete come le vostre tasche e avete fatto avete visto quello che ha fatto la scorsa stagione beh se lo replicherà potenziato ancora di più forse la premonese può lottarsela per salvarsi però non è abbastanza però deve continuare a muoversi così perché c'è tanto da fare c'è tanto da fare o che re che si è un buon colpo ma ne devi fare uno a centrocampo e forse due in difesa e devi cambiare il portiere vedremo vedremo cosa si inventerà la dirigenza cremona di cremona e intanto questo video può finire qui perché abbiamo già detto tutto davido che re che è vostro classi 1997 appunto te brucia nazionalità nigeriana e niente quindi nulla finisco qua il video e pazzesco pazzesco non ci sono più parole per descrivere il calciomercato di serie A perché veramente ce ne sono di nuove ogni giorno e allora attivate la campanella per non perdervi neanche un video iscrivetevi al canale arriviamo ai 1100 e dai è così dai è così chapeau alla cremonese sembra tutto fatto bella raga quella Grazie.